Giulia Nova e Amiternina battono un colpo e ridanno l'infa alla loro rincorsa salvezza. Le due abruzzesi restano sul fondo della classifica, ma i successi di ieri dicono che c'è ancora grande voglia di lottare e le distanze tra le varie posizioni della parte bassa della gradatoria si sono sensibilmente accorciate. Michele Gelsi ringrazia l'ennesima bella giocata stagionale di Daniel Giampaolo che ha inizio ripresa giustizia alla re canatese dell'abruzzese Meco Monaco. Prestazione concreta dell'undici giallorosso, nonostante restino le tensioni di una piazza che fatica ad entrare in sintonia con la proprietà Serraiocco. La Amiternina cammina sul velluto, sul campo dell'Isernia. All'opera le due T scoppitane, Torbidone e Teriaca mettono il loro sigillo sulla vittoria in terra pentra. Due reti nel primo tempo e gara archiviata, Molisani in crisi piena. Per il tecnico De Bellis potrebbe essere stata l'ultima panchina. Per la Amiternina il modo migliore è di iniziare il doppio turno in trasferta. Domenica la squadra di Scoppito giocherà a Re Canati. Nulla da fare per l'Avezzano sul campo di una delle squadre più in forma del campionato, il Campobasso. Per onore i marsicani non hanno scampo e subiscono le marcature dei Lupi Molisani con Gabrielloni e Alessandro. Di Curzio subentra e ravviva il finale di partita, ma il tentativo di rimonta viene sedato da Grazioso in pieno recupero. Per l'Avezzano è la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Secondo stop consecutivo invece per il San Nicolò, che a Pesaro viene punito da un gol dell'ex Costantino. Quinto posto ancora in salvo, visti gli assalti mancati di Re Canatese e Fermana. Domenica beffarda per il Chieti, che gioca una buona gara ad Ascoli, ma subisce il pari beffa nel quarto minuto di recupero. Una rimonta doppia, quella del Monticelli, grazie alla giornata di gloria del difensore Mauro Sosi, ex capitano del Giulianova. Ad illudere il Chieti sono state le marcature del solito Dos Santos e quella pregevole di tacco di un altro difensore, Sbardella. Restano due punti persi per il Chieti, che non riesce a innescare la rincorsa playoff e resta sempre vicino alla zona playout.